Pua dal Naguzzi, benvenuti allo Stamford Bridge per Chelsea Liverpool. 41 punti a testa se si gioca il primato. Si partono. L'allenatore Naguzzi ha provocato violentemente forse il Mourinho, anche se a me sta simpatico, ma diamo un po' di Pepe. È un gioco. Gran palla di Gerrard fuori gioco di Sallio. Come on Liverpool, come on Reds. Oh mamma. Mamma mia, va, cosa sbagliata. No, Sannoletò. Rilio di Spuffa. Suarez. Salvio. Argentino preso dalla Belteca. Mattia Resciglio, fermato. Rimesso laterale per il Lido. Pallano indietro per scartano. Sacco. Lucas Leiva. Ose Enrico. Per Coutinho. Vai Coutinho che è so forte. Coutinho Martino, incredibile, fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco. Coutinho sta facendo una stagione meravigliosa. Noi dobbiamo vincere a Stanford Bridge. Stanford Bridge. Ah. Pensava a Samuel Eto'o. Formato o se è rito. Ragione Liverpool. Gerrard. Resciglio. Ah, viene fermato Sciglio di Sciglio. Attenzione, Bravos. Fallo, fallo su Scurto. Eh, 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 di Ramirez. Gerrard, Resciglio. Oggi non si riesce ad esprimere al meglio Mattia. Salta l'uovo con una certa facilità. Salvio. Scarpoli. Sacco. Ose Enrico. Starwood. Formato da Matic. Riparte il Chelsea. Riparte il Chelsea. Samuel Eto'o viene fermato. Ancora da Sacco. Sbaglio Sacco. Oskar. Oskar Perazzar. Sacco, buttami la palla. Attenzione, si soffre. Si soffre col Chelsea. Cos'ho arrivato. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Oskar. Un via di Scuffè. Poutinho. Persuarez. Fermato da Matic. Ramirez. Eto'. Oskar. 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 Gran palla. Oskar. 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 Bravissimo il portiere. Il 17enne portiere italiano. Pagato non poco dall'Udinese. Trattare con i pozzo. Sempre molto di piace. Oskar. Poutinho. Descilla. Salve. Ma recupera. Descilla. Cambia completamente gioco. Oskar. 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 Starwich. una spazio staris col portato sbaglia completamente di parte ciò sta con la scarma o servite sbaglia però calcio di posizione per il cels sulla palla che il lunga per casa dai osserrique dai che sei veloce su quella cazzo di fascia vai osserrique vai vai staris gira sulla palla ma è arrivato in anticipo peter cac rinvio dai che ci avviciniamo al mercato di gennaio mamma mia che sbaglio grande parata di scuffer ecco non può farci nulla non può farci nulla non può far nulla contro hasard scelta il vantaggio scelta il vantaggio salio formato va bene il Chelsea scuffa, rinvio ancora rinvio di scuffa, molto lungo per Suarez fermato da Cael, grande la difesa del Chelsea dai, dai Suarez finisce qui il primo tempo, 1-0 Chelsea gol della belga Hazard iniziamo il secondo tempo Coutinho, Steven Gerard, Lucas Leiva Sturridge bravo Sturridge ma non cosa cazzo, cross così, ma che cross di merda occhio a Samuel Eto'o fermato da Squirtle ok, lo scatto le sciglie, scuffa, rinvio verso il nulla eh, non si è messo bene il campo brava Squirtle, che giocatore dai Salvio, dai che sei veloce su quella cazzo di fascia oscar sta facendo una partita di contenimento tra l'altro aia, chi si è fatto male, Salvio? chi si è fatto male, Salvio? eh vabbè, mettiamo dentro Moses o Sterling no, io voglio Moses mi piace di più Moses giocamelli cazzo, si è fatto male, Salvio cazzo, si è fatto male Salvio rinvio di Squirtle Liverpool è una squadra che sta andando verso un rinnovamento ma stanno ringiovanendo la squadra e c'è se già una squadra esperta Mourinho una vecchia volta contro Naguzzi giovane allenatore italiano che allena i Reds dai Stavis, dai Stavis cambia gioco Gerard Resciglio ah, Resciglio cazzo abbiamo il via di Peter Cech presso del Liverpool dai Stavis dai Stavis dai Stavis dai Stavis dai Stavis dai Stavis o se Enrique di parte del Liverpool formato da Matic rimessa laterale ma qua forse ci sta anche il calcio di punizione dentro Scurr dentro Scurr fuori Asano per il Cech Lucas Leila cambia gioco Mattia Resciglio Mattia Resciglio Steven Jones Lucas Moira Moira Coutinho che palla geniale e calcio di rigore guarda fuori gioco dai Stavis porca puttana calcio di rigore con il gioco non devo dire dai Suarez ha fermato la Cahil ha fermato la Cahil dai Liverpool dai cosa ho rischiato il rigore qui mamma mia attenzione cosa ho rischiato il calcio di rigore lì bisogna essere onesti sta giocando meglio il Chelsea il Liverpool non riesce ad esprimere nel suo solito gioco fuori gioco di Summer e Tor dai che cazzo dell'indio eh vai Coutinho vai vai a pressare Steven Jones gran palla per Starridge gran controllo di Starridge ma è solo è solo è solo nooo azione del Liverpool il Liverpool Moses cosa sbaglia della imparata di Peter Cech eh vabbè ma fallo ovunque qua mamma mamma cosa ha parato Scuffè mamma che miracolo che ha fatto il suo che riesco a fare un'altra che è l'altra che è la scala non è un'altra che è l'altra che è l'altra che è l'altra Vai Liverpool Vai Lucas Leva Deve ragionare Liverpool Manca ormai Siamo ai tre minuti di recupero Scegliere e scegliere Asper con Lucas Leva Ma no Ma no E finisce qui signori Porca miseria Chelsea Allo Stanford Bridge Bate Liverpool per una rete a zero Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Moses 4 addirittura Scandalosamente scandaloso Newcastle Arsenal 0 a 0 Il Liverpool Vediamo una classifica Rimane secondo ma a tre punti da Chelsea 41 il Liverpool 44 il Chelsea Signori Il prossimo video sarà sul calciomercato di gennaio Vediamo di modificare leggermente il nostro Liverpool Ciao a tutti da Naguzzi Pua